Buono partita? No, con il mio amico Beppe Bergoli sono poi sempre d'accordo questa volta su Palazzo con tutto il sacrificio del mondo che ha fatto però insomma ha fatto veramente poco per la qualità che ha sacrificandosi ok però ecco non era per me, io non l'avrei nominato ovviamente ma pochi hanno giocato bene una partita che si può definire proprio positivamente mediocre e si devono essere veramente positivi